Villa Pasta, il Castello Basso di Burolo Conosciuta anche come Castello Basso, per essere stata nell'undicesimo secolo una fortificazione facente le funzioni di guardia in entrata e uscita del paese, questa imponente villa venne acquistata dalla famiglia Ceveris nel 1590 e ridotta ad abitazione con l'aggiunta di un parco privato che verrà nominato bastione dalla popolazione, proprio in memoria delle vecchie fortificazioni. Nel corso dei due secoli successivi venne ulteriormente ampliata e abbellita con l'aggiunta anche di una piscina che ora funge da stagno ed abbeveramento per gli uccelli e di una cappella privata. Dopo l'insediamento delle suore dell'immacolata concezione, quest'ultima fu demolita e al suo posto venne costruita l'attuale cappella in stile gotico, ancora in funzione e utilizzata in paese per la Santa Messa dell'Immacolata ogni 8 dicembre. Dal 2009 al 2018, dopo il trasloco delle suore nella sede di Ivrea, la villa venne usata per un progetto di comunità famiglia, per poi passare di proprietà comunale nel febbraio 2022. A presto! 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 Grazie a tutti.